Quindi se cerchi degli occhiali originali, te li posso trovare anch'io, a 2 euro e 50, facciamolo Comprà, 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 comprà Io faccio V comprà, in caso vuoi comprà, tutti sanno che io, io sembro V comprà Comprà, 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 comprà Io faccio V comprà, in caso vuoi comprà, tutti sanno che io, io sembro V comprà Io faccio V comprà, in caso vuoi comprà, non comprare originale costa troppo, lascia sta Occhiali da sole, 2 euro e 50, magietta Justin Bieber, Pepper Sur, 6 euro e 40 Tutti sanno che io, io non compro mai album, perché io scarico, scarico sempre da YouTube Profugo, 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 tutti sanno che io sono un profugo E' stato Mattarella a dirmi che io, posso fare questo lavoro Comprà, 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 comprà Io faccio V comprà, in caso vuoi comprà, tutti sanno che io, io sembro V comprà Accendino 50 centesimi, braccialetto 80 centesimi, compra questi occhiali trasparenti amico, così mi vedi Lavoro tutti i giorni, non sono ricco, appena comprato iPhone, tu ti sanno che un sacco di fighe bianche da me comprare un borse Louis Vuitton Eh fratello, quanto costa quel tapeto? Tapeto 1 euro 50, sconto fratello, tu mi capisci Apple Watch, su mio polso, Nike, mio piedio, tutti sanno che io, c'ho un sacco di clienti italiani Comprà, 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 comprà Io faccio V comprà, in caso vuoi comprà, tutti sanno che io, io sembro V comprà Comprà, 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 comprà Io faccio V comprà, in caso vuoi comprà, tutti sanno che io, io sembro V comprà Grazie a tutti